Benvenuti in un nuovo video di Fallout e questa volta mi ritrovo in un dungeon già fatto praticamente E allora Là è morto il tizio Noi ci prendiamo il buon vecchio Minatappi Perla Perla Psss La prendilo Vai Ci mettiamo qualcosa di potente Di cui abbiamo parecchie munizioni Quindi ci andava bene questa O fucile da caccia Questa non batte la munizione Scendi Il metodo più veloce per batterla è questo Perché il pino non vi può attaccare Perchè Il metodo più veloce per batterla Grazie Abbiamo trovato anche qualcosina di buono Però non è come volevo io Vabbè Dov'è la mano di Deathclaw? Perché fino a mo' mi era uscito quello leggendario di Deathclaw Mo' non so perché mi era uscito questo Vabbè No, carica Voglio quello leggendario Non ne sento ragioni Allora Inventario Buttiamo lo top Dov'è il suo fratello Oggi è la leggendario Oggi è la leggendario lei che ci fa mo' così Merda Perché non mi accontento delle piccole cose qua? Dovevo complicarmi la vita Birra Ssss Laggiù In posizione Allora Allora Morto Instant Sì vai Comunque noi abbiamo fatto nulla col fucile ad energia Che bello Che bello sentiteci Granato alleato Dove è granato alleato Granato alleato Vai Salve 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 Allora Allora Le faccio riconoscere un'altra volta Il mio simpatico amico Dove è? Colpo critico Colpo critico Colpo critico Ma non lo voglio Dove è quello leggendario Carica Sono pronto a quello leggendario Dai su 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 Non è che rimanendo la diventa leggendario Aspetta Vino a tappi Perra Perra Trepa Trepa Aspetta Aspetta Coltello serramanico Che cagato Che cagato Andiamo Io mi aspettavo più l'arma del Deathclaw Vabbè Mi dia questo macete così Posso seguire il mio concerto ben santa pace Mo' vedi che esce un altro Deathclaw così da nulla Perchè ci ho mandato il cane e non è uscito nulla Ci vado io Boom Salve Buongiorno Buonasera C'ho paura del fatto che qua ci siano delle radiazioni sinceramente eh Permesso Permesso Scusi dovrei passare Scusi dovrei passare Scusi dovrei passare Casco da minatore Permesso permesso salve buongiorno Non so lei Non so lei ma io prenderei Inizierei a prendere da adesso Un paio di Red Away Anche No più che altro perchè c'ho paura che dopo mi esce un Un paio di Un paio di Un paio di non volevo trovare altri esempi con un po' di parole e lei che è corso e per un po' lui tutto a posto allora buttiamo un paio di cose allora cosco dominatore che pesa 5 torace da perdone poi cos'è gioca a football cioè a cosla come si chiama si a football e quindi ci accontentiamo delle lamettine è anche bene facile di quella lamettina mi avesse dato un fucile non so un cecchino ancora ancora ok dai dovrei poi inventario armi basta per carità è veloce tutto però fa schifo non volevo dirlo però preferisco di gran lungo sto corso e poi devo capire un paio di cose allora fucile da caccia no 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 allora castello non volevo Fanno un po' Cioè Fatto al cecchino secondo me è forte Arriva al 72 di danno però Piuttosto mi potenzia quest'altro Dov'è? Non è fucile da caccia Questo qua ha potenzio 64 già li fa adesso Basta che butto sopra Calibur 50 fa 89 di danno Poi è bello come io Guardo le cose Fa più danno? Bene Prendo quello Fa meno danno? No Non prendo quello Allora via Salve Mi inquieto ogni volta che vedo quell'armatura Allora Fucile da caccia via Frammentazione via 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 Macete mixtape via Tirapogli Corto temprato Questo è fucile Normale Ah si perché l'altro L'altro l'ho depositato E' vero Fa vedere un attimo il junkjet Allora Allora Mettiamocene 20 Ok Ehm Tab Tab Ah sai che male Ah c'è c'era Che figata Te devi Eh vabbè ho preso il telefono Però non c'è nessuno Non risponde nessuno Eh vabbè No non vuoi Chiudi Chiuditi Proviamo un'altra arma Va Questo salvo perché mi vuoi mantenere le munizioni Sinceramente Allora Junkjet Via Eh vabbè Che cacchio ho preso Tra l'altro Ah Vendete Ciao ciao Saluta Allora FFF Anzi vi faccio vedere Non c'è missili normale E quest'altra Cacchi di differenza c'è tra i due Cioè già lo so Però ve lo faccio vedere comunque Allora salva Una montagna Montagnetta Da cui posso sparare La spara praticamente in casa Allora Fatman Anzi no Non c'è missili Avete visto l'esplosione no? Ok Per farvi capire un po' Pensavo facessero anche danni da radiazioni dopo Eh vabbè Niente Vi voglio far vedere un attimo come buttare giù Col Col deathclaw All'ospedale Magari c'eravate Arrivati anche voi Non sapevate come buttarlo giù Adesso lo sapete Non c'eravate arrivati Ve l'ho spoilerato Infatti vostro No non è vero Scusatemi in caso Comunque era qua il deathclaw Vicino alla confraternita d'acciaio Qua c'è la confraternita d'acciaio Qua c'è il deathclaw Che praticamente non è tanto distante da qua Quindi Optiamo che per questo video è tutto E' da domani Siccome questo video lo carico domani Quindi da domani per me Da domani per voi Inizierò la serie col personaggio Io mi ho incentrato sulla forza E sugli attacchi corpo a corpo Vuoi provarlo? Corpo a corpo Barra con poca distanza Tipo fucile a pompa A massimo Prima che Eh ho utilizzato fucile a pompa Non vale Cosa si vale? O mi travese Allora Tutto ciò che potrebbe essere pensabile Con il coso Quindi forse forse Anche lanciarazzi Ma non mi piace Voglio andarci corpo a corpo Ergo di martellone Cioè aspetta Ve faccio vedere già neanche prima Come sarà Appugnarsi vai Allora Promesso Albert Buongiorno Posso entrare? Ehm Oppure Prendi Dov'è il martello? Inventario Pare una spada Guarda come la uso E praticamente sarà così Anche se non so se posso Utilizzare senza nucleo Si fa un po' di difficoltà Ad andarci corpo a corpo Ma te l'ho fatto togliere apposta Vuoi vedere se senza nucleo Allora Allora Dov'è la batteria? Pure un altro Provedere 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 Ok Niente Diciamo che per questo video Era tutto Quindi alla prossima Volevo giusto vedere un paio di cosettine in più Giusto io E magari Ve lo chiedevate anche voi Adesso lo sapete anche voi Non lo so Quindi Per questo video È tutto Comunque questo personaggio Sciavanzerà tutto Per ora forse Non lo so A meno che non trovo così interessante Da farvi vedere Perché sto pensando che con l'altro personaggio Non vado con una Fraternita d'acciaio Ma vado tipo mercenario Non so Quindi devo fare forza Costituzione Carisma Voglio Sì Però ci dovrebbe stare E Niente Diciamo che per questo video Era tutto Quindi alla prossima Ciao ciao